Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Lunedì 12 riaprono le scuole, primaria e secondaria. Un augurio a tutti gli studenti, mentre questa settimana hanno riaperto le scuole dell'infanzia, nelle quali mi sono recato a sorpresa a portare un saluto a tutti i bambini che hanno ricominciato questo anno. Gli eventi del fine settimana e della settimana. Questa sera alle ore 21 presso Calipolis, la compagnia teatrale della Marmotta metterà in scena lo spettacolo dal titolo Dantical. Domani 10 settembre, dopo due anni di stop, ritorna la Mezzanotte Bianca, un grande evento che con la chiusura delle strade inizia alle ore 18 e si conclude a mezzanotte. Negozi aperti, visite guidate al castello, momenti di musica, momenti gastronomici, quindi cibo si potrà mangiare all'interno della manifestazione, mostre fotografiche e tanto altro, anche animazione per i bambini. È un momento molto sentito dalla nostra comunità e invito tutti a partecipare. Domenica alle ore 10 presso Calipolis, la seconda edizione della Coppa Cobra, un momento molto divertente e anche qui siete invitati a partecipare numerosi, nel classico stile fantoziano dedicato all'evento. Lunedì invece parte la settimana della salute, settimana che potrete vedere nel volantino, molto ricca di eventi. La settimana parte con gli screening, screening alcuni di quali sono già completi come prenotazioni perché la settimana era già iniziata la promozione sul sito internet del comune. Ci sono ancora liberi alcuni posti per lo screening senologico, invito tutti a chi fosse interessato a fare lo screening lunedì a prenotare dalle ore 15 alle ore 18 al numero che trovate qui sotto. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!